Di solito per installare ed eseguire Android su PC si ricorre alle più famose soluzioni per la virtualizzazione oppure si utilizza un prodotto come RemixOS, vero e proprio fork del sistema operativo di Google. Come avevamo spiegato nell'articolo pubblicato a suo tempo, vedere installare Android su PC con RemixOS, però, almeno fino ad oggi, RemixOS poteva essere eseguito in modalità live ad esempio da una chiavetta USB, oppure installato su hard disk o unità SSD, anche in dual boot con Windows, GIDE, la software house che si sta dedicando a RemixOS, ha appena annunciato la disponibilità di RemixOS Player, nuova incarnazione. Del progetto che offre la possibilità di eseguire Android su PC attraverso l'utilizzo di un emulatore. In questo caso GIDE è ricorsa al ben noto KEMU, software libero e o PESource ottimizzato per l'esecuzione di Android. Anziché installare RemixOS ed eseguirlo all'avvio della macchina come sistema operativo stand-alone al posto di Windows, il nuovo RemixOS Player permetterà di utilizzare Android 6.0 Marshmallow in finestra. L'unico requisito per usare RemixOS Player, è avere a disposizione un PC moderno. Windows 7 a 64 bit, o versioni di Windows successive, sempre a 64 bit, 4 GB di RAM e la tecnologia per la virtualizzazione abilitata. A livello BIOS, UEFI, Intel Virtualization Technology, rappresentano infatti il minimo sindacale per poter usare l'emulatore. È poi bene disporre di un sistema con almeno un processore Intel Core i5 e spazio su disco a sufficienza, preferibilmente circa 16 GB liberi anche se bastano 8 GB. Per iniziare a usare RemixOS Player e avviare Android su PC è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. 1. Scaricare RemixOS Player da uno dei mirror elencati in questa pagina. 2. Cliccare due volte sul file prelevato. Si tratta di un archivio compresso con 7 zip. 3. Richiedere l'estrazione del contenuto del file compresso in C2.4. Portarsi nella cartella e cliccare due volte su. 5. Cliccando su Advanced Settings, si può definire il quantitativo di memoria da assegnare all'emulatore Android, il numero di CPU e la risoluzione. 6. Senza passaggi aggiuntivi, verrà immediatamente avviato RemixOS utilizzando l'emulatore Chemo appositamente configurato. Bisognerà solamente impostare la lingua preferita, inglese, l'italiano al momento non è previsto, e accettare le condizioni di licenza. 7. Il passaggio seguente consiste nell'indicare quali applicazioni, tra quelle proposte da RemixOS, si desidera che vengano installate. È possibile deselezionarle tutte. 8. A questo punto, cliccando sul sim il pulsante Start in basso a sinistra, e accedendo alle impostazioni di Android, si potrà configurare la tastiera italiana come dispositivo di input. Cliccando su About the Tablet si potrà verificare che, effettivamente, RemixOS Player esegue proprio un fork di Android 6.0 Marshmallow. 9. A questo punto, ricorrendo a Google Play, fare sempre riferimento al pulsante in basso a sinistra, si potranno installare le applicazioni che più si ritengono opportune. 9. A questo punto, ricordazione Análise di informazioni di Android 6.0 12. A questo punto, ricordazione non è atheist e vede. 10. Fraudazione della stanley, essere stato di essere un bel edo messo a chiudere. 11. Casa minore, edo mi tutto si potrà verificare i alcuni d'è www.estip.estip.estip.estip.estip.estip.estip.esta,